Elenco delle malattie del pomodoro Elenco delle malattie del pomodoro e rimedi efficaci Dalle foglie gialle al marciume apicale, peronospora, virus del mosaico e insetti parassiti L'elenco delle malattie del pomodoro, dagli attacchi parassitari ai funghi, senza trascurare malattie dettate da carenze del suolo, cariche virali o batteriche Il pomodoro, botanicamente solanumico persicum, è originario dell'America Latina ma è ormai coltivato in tutto il mondo Purtroppo il pomodoro è soggetto a una lunga serie di malattie di varie origini L'elenco delle malattie del pomodoro è molto lungo perché comprende Malattie batteriche Malattie fungine nematodi e altri parassiti Malattie virali, viroidi e fitoplasmi Malattie dettate da carenze nutrizionali Altre malattie insetti, cimice del pomodoro Tra i vari insetti che possono infestare le vostre coltivazioni di pomodoro, segnaliamo la cimice verde La cimice del pomodoro, meglio definita come nezzara viridulla, è un insetto fitofago che attacca soprattutto le coltivazioni di pomodoro Il danno si manifesta sulle foglie e sui frutti ed è causato dalle punture di nutrizione di tutte le forme mobili del fitofago, quindi non solo dell'insetto adulto Le piante infestate dalla nezzara virdulla mostrano foglie con necrosi localizzate e dissecamenti di diverso grado, causate dalle punture trofiche Sulle bacche di pomodoro si possono notare punteggiature clorotiche, sul pomodoro non ancora maturo, che, a maturazione ultimata, diventeranno piccole chiazze Piretro I prodotti da utilizzare, ammessi in agricoltura biologica, sono i piretroidi o estratto di piretro Insetti, afidi del pomodoro Gli afidi sono piccoli insetti a forma di pera che in caso di infestazione, sono visibili sulle foglie di pomodoro Se notate foglie lucide, appiccicose o deformate, probabilmente la pianta è stata attaccata da afidi o altri insetti come gli acari o gli aleurodidi Anche in questo caso può essere efficace un trattamento a base di piretro Come eliminare i parassiti dei pomodori Il piretro è inoltre efficace contro altri insetti parassiti del pomodoro Ricordatevi che il piretro prima di essere un pesticida naturale è un estratto vegetale Quindi la sua efficacia è a breve termine, saranno necessari trattamenti ripetuti a stretto giro Il piretro va usato nelle fasce orarie e serali, quando le temperature sono più basse e non vi è il sole Il piretro, infatti, essendo un estratto naturale tende a disattivarsi con il sole perché il suo principio attivo è fotosensibile Applicatelo al calar del sole così avrà modo di agire durante l'intera nottata Il piretro, prima di essere un insetticida è una pianta, quindi si degrada naturalmente nel giro di un paio di giorni Quindi i pomodori potranno essere consumati in piena sicurezza Come si usa si può comprare la forma spray pronta all'uso o spray concentrata, più economica In genere bisogna diluire 14-25 ml di prodotto in 10 litri d'acqua così da avere una resa maggiore e più convenienza nei trattamenti su larga scala Il prezzo è di 16,81 euro con spese di spedizione comprese e, anche questa volta, per tutte le informazioni vi rimando alla scheda del prodotto Buyer Piretro OctiGrain, bio Funghi che attaccano il pomodoro Tra i funghi che possono causare diverse malattie del pomodoro segnaliamo quelli più comuni Muffa grigia, Botrytis cinerea, Peronospora, Phytoftora infestans, Oidio, Leveillula taurica, Nerume, Alternaria alternata, Cladosporiosi, Cladosporium fulvum, Radice suberosa, Pirenoscia etelico persici In genere, per eliminare le malattie funigne del pomodoro si impiegano prodotti a base di rame, anticriptogamici come la poltiglia bordolese Per altre informazioni, come combattere la muffa grigia Batteri che attaccano il pomodoro Tra i batteri che causano diverse malattie del pomodoro citiamo il cancro batterico causato da corine bacterium michiganense, le macchiettature del pseudomonas siringa e la maculatura dell'oxantomonas campestris Virus del mosaico sul pomodoro Il mosaico del pomodoro resta attivo nel terreno, nelle piante vive e addirittura nei semi La diffusione, però, non avviene in modo diretto ma necessita di vettori o intermediari Gli intermediari sono gli insetti parassiti che potrebbero essere controllati con il piretro Ad oggi, le piante di pomodoro colpite dal virus del mosaico vanno generalmente allontanate e bruciate Malattie del pomodoro causate da carenze Tra le malattie più diffuse, dettate da particolari condizioni Livello di pH del suolo Umidità Carenza di calcio Segnaliamo il classico marciume apicale del pomodoro oppure i pomodori con foglie gialle e frutti dalle dimensioni ridotte o non molto saporiti Per tutte le informazioni Marciume apicale del pomodoro Pomodoro con foglie gialle Se da un lato, un eccesso di azoto può causare un cattivo assorbimento del calcio e quindi marciume apicale Dall'altro, una carenza di azoto può causare foglie ingiallite In genere, quando le foglie gialle sono causate da una carenza di azoto, le foglie più in basso iniziano a diventare gialle, arancione, mentre le foglie nella parte alta della pianta rimangono verde brillante Grazie a tutti